Tornati a CyberSec, riapriamo i lavori del pomeriggio con un panel dal titolo AI Act, NIS2, la cyberresilienza dell'Italia, il ruolo del Parlamento. E ne parliamo con Enzo Amic, Andrea Casu, Giulia Pastorella, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, e con Alessandro Colucci, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica. Ben trovati, grazie per essere qui. Grazie. Allora, da questo palcoscenico vogliamo lanciare una campaign come CyberSecure d'Italia, soprattutto in merito alla direttiva NIS2 che andrà a impattare circa un milione di soggetti. L'audio è un po'. Troppo alto? Malissimo. Ma meglio l'audio? È loro più che altro. Allora, dicevo, vogliamo lanciare una campaign come giornale sulla direttiva NIS2 che andrà a impattare almeno un milione di soggetti essenziali e critici del nostro Paese. E dal nostro punto di vista questi soggetti andrebbero accompagnati con fondi pubblici. Dove prendere questi fondi? Basterebbe dare seguito a quanto previsto nella strategia cybernazionale. Andiamo a leggere. Una quota percentuale dell'1,2% degli investimenti nazionali lordi su base annuale. La nostra proposta è di prevedere anche tutto questo nella prossima legge di bilancio. Allora, partiamo dall'onorevole Colucci. Qual è il suo commento su questa proposta e qual è il ruolo chiave che il Parlamento può avere per quanto riguarda la cyber sicurezza? Ma intanto fin da ora mi scuso del tempo che riuscirò a dedicare a questo incontro per cui ringrazio assolutamente dell'invito ma in questi minuti è in corso il question time alla Camera dei Deputati e io sono uno di quei parlamentari che deve illustrare il question time. Non è mia usanza arrivare in un luogo importante e autorevole come questo e poi abbandonarlo perché credo che sia importante il confronto tra noi parlamentari che viviamo all'interno della stessa Assemblea e delle Commissioni che è il luogo per la centralità del Parlamento a cui tutti noi ci richiamiamo. È veramente il luogo dove si possono fare cose importanti anche su questa materia e soprattutto sulla sicurezza informatica e oramai possiamo dire anche sulla cyber resilience perché poi c'è anche un'evoluzione sulla capacità di far resistere sistemi complessi rispetto agli attacchi che quotidianamente i nostri sistemi purtroppo subiscono. Ma proprio in questa fase in cui c'è poca normativa il ruolo del Parlamento è veramente importante e centrale. Questa è la ragione per cui io ho voluto creare l'intergruppo sulla sicurezza informatica e tecnologica perché credo che la caratteristica dell'intergruppo che è quella di mettere insieme parlamentari di Camera e Senato quindi dei due rami del Parlamento, parliamo di 19 deputati e 3 senatori, in totale 22 parlamentari e con l'avvicinarsi dei provvedimenti in aula devo dire che aumenta il numero. E il fatto che l'appartenenza dei parlamentari, ci sono alcuni colleghi che fanno parte dell'intergruppo appartengono a forze politiche di maggioranza e di opposizione credo che sia il vero valore per fare delle norme utili e durevoli perché poi non subiscono delle modifiche in ragione del cambio delle maggioranze. Questa è una delle funzioni dell'intergruppo e proprio in questi giorni abbiamo avuto un primo pacchetto di provvedimenti sulla sicurezza informatica che sono in prima e in seconda commissione commissione affari costituzionali e commissione giustizia e attraverso l'attività dell'intergruppo e avvalendoci di tecnici validi perché poi ci vuole competenza. Questo è un altro luogo utile e importante per creare rapporti e per questo ringrazio ancora dell'invito relazioni che possono servire per dare degli elementi di competenza e conoscenza che ci possono aiutare a legiferare in modo migliore. Dentro l'intergruppo abbiamo esattamente un gruppo di tecnici che ci dà una mano e allora cercheremo di dare il nostro contributo al provvedimento che è stato emanato dal Consiglio dei Ministri non solo su questo pacchetto di sicurezza ma adesso arriverà un pacchetto corposo di cyber security sulla quale lavoreremo con i colleghi e ci dovremo avvalere di voi. Certamente il tema delle risorse è importante, il piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione delle risorse, sono 12 miliardi per questo comparto, l'obiezione che viene fatta non sono sufficienti, ci rendiamo conto che 12 miliardi sono tanti ma ci rendiamo conto che poteva essere anche meno. Allora incoraggiare le aziende, io sono molto convinto del rapporto pubblico privato, in aziende grandi e importanti che possono investire i capitali coinvolgendo anche i piccoli in questo settore io credo che sia la strada che il pubblico deve seguire, cioè incoraggiare gli investimenti, agevolarli in modo tale che ci sia beneficio per le grandi che però obbligatoriamente devono coinvolgere i piccoli. È fondamentale essere bipartisan per questa importante sfida. Onorevole Casu, qual è il suo commento sulla nostra proposta e qual è il ruolo chiave in questo caso della Camera dei Deputati per la Cybersicurezza Nazionale? Io innanzitutto vi voglio ringraziare per questo invito e per questo appuntamento, ringrazio anche chi sta terminando il pranzo e presto si unirà a noi per il proseguo di questi lavori perché credo che sia fondamentale acquisire anche nel nostro Paese una consapevolezza di sistema su quanto sia fondamentale in una nostra vita che ormai si passa in un continuum di spazi fisici e digitali il concetto della sicurezza e il concetto della sicurezza negli spazi digitali. Da questo punto di vista io penso che sia molto chiaro e avete fatto bene a partire con la pagina 12 di quel documento perché quello che c'è scritto, l'impegno di una cifra importante, perché stiamo parlando comunque di una percentuale significativa degli investimenti pubblici è un impegno che ha assunto il Governo e che questo Governo non ha cambiato quindi è fondamentale che venga dato seguito e io dico che noi dobbiamo dargli seguito anche e soprattutto perché quello che sta avvenendo, l'abbiamo ricordato anche in aula quando in occasione della NIS 2 abbiamo fatto una battaglia per cercare di alzare il livello di guardia del nostro sistema Paese cercando di utilizzare quelli che sono i livelli più alti di protezione nei confronti dei nostri dati sensibili nel nostro Paese quando in realtà quello che sta succedendo in Italia è che stiamo diventando un po' il Paese di Bengodi del cybercrime stiamo diventando il Paese di Bengodi del cybercrime perché quando nel Decamerone Boccaccio aveva immaginato il Paese di Bengodi noi spesso usiamo questa parola senza saperne la ragione, aveva immaginato un Paese dove c'era una pietra una pietra magica che rendeva invisibile e tutti volevano andare in questo Paese di Bengodi perché nel Paese di Bengodi tu eri invisibile agli altri e quindi provavi questa meravigliosa emozione dell'invisibilità e se rispetto alla media mondiale dell'aumento degli attacchi la percentuale a seconda delle rilevazioni dell'aumento degli attacchi in Italia è 6-7 volte maggiore, se abbiamo il 98% delle imprese italiane che almeno una volta hanno sperimentato un attacco, se abbiamo il nostro sistema pubblico con i problemi che abbiamo è perché la nostra incapacità di alzare collettivamente la guardia come sistema Paese ci sta trasfermando quella era una burla, non esisteva il Paese di Bengodi 8 secoli fa ma per il cybercrime il Paese di Bengodi sta diventando l'Italia perché stanno di essere invisibili, perché se io devo scegliere se attaccare un Paese un'economia, un'impresa e so che quel Paese si protegge peggio di un altro Paese io sposto l'attacco verso l'Italia e noi nonostante il grandissimo lavoro che facciamo dobbiamo essere in grado di fare due cose, una è la regolamentazione che è importante, fondamentale e comunitaria, bisogna fare passi avanti, ma servono le risorse, servono gli strumenti abbiamo approvato un ordine al giorno su un proposto dell'opposizione, votato anche dalla maggioranza per chiedere di alzare il livello da guardia dei nostri comuni, delle province, carte di identità elettronica noi daremo le nostre impronte digitali, daremo tutti i dati sensibili di 60 milioni di persone non possiamo chiedere ai comuni di scegliere se fare le carte di identità o proteggere i dati di quelle carte di identità perché alla fine con la fila di persone che chiedono la carta di identità sceglieranno di fare le carte di identità ma se noi non diamo a questi comuni le risorse, gli strumenti per proteggere anche quei dati tutto il mondo verrà prendere i nostri dati e li utilizzerà da questo punto di vista serve veramente che quell'impegno che c'è nella strategia venga tradotto in realtà a partire dal prossimo documento di economia e finanza e da questo punto di vista eventi come quello di oggi che alzano il livello anche di un'assunzione di consapevolezza di sistema non la singola impresa, non il singolo attore istituzionale, non la singola forza politica non la singola forza sociale ma un sistema paese che vuole difendersi meglio sono fondamentali perché questo tema deve essere parte dell'agenda politica Onorevole Amic, qual è il suo commento alla nostra proposta? Come accompagnare questi soggetti interessati dalla direttiva NIST? Innanzitutto faccio seguito alle parole di Andrea per ringraziarvi per l'invito per l'evento perché una giornata come questa, questi due giorni, non fanno altro che aumentare la consapevolezza di questo problema innanzitutto ringrazio anche Andrea perché non conoscevo la storia del Bengodi adesso ho imparato anche questa cosa l'importanza e avere consapevolezza di questa problematica credo che sia la base per poterla superare e ad affrontarla nel modo giusto come diceva le parole del Presidente prima credo che un giorno come questo sia il perfetto mix cioè la consapevolezza da parte politica da chi va a legiferare con le capacità, le informazioni, la conoscenza, la preparazione da parte delle aziende, da parte del settore insomma che poi vive di questo e che partecipa attivamente poi alla sicurezza di tutti noi la questione della cyber sicurezza è qualcosa di vitale importanza che sta prendendo sempre più piede fortunatamente negli ultimi anni comunque questa consapevolezza arriva anche tramite anche le direttive europee che vediamo ad esempio nella NIS nel 2016, la NIS 2 nel 2022 e anche quelle osservazioni, quei correttivi che sta facendo il governo e il Parlamento attivamente nelle proprie commissioni è stata fatta così come diceva anche prima come sentivamo prima una tematica di questo genere non ha colori una tematica del genere va affrontata facendo squadra in maniera concreta e vera e l'abbiamo visto anche con l'intergruppo della cyber sicurezza l'abbiamo visto anche come abbiamo affrontato nelle commissioni trasporti, posti e comunicazioni ad esempio sull'ANIS 2 ad esempio questa che citava Andrea qualcosa che nasce dall'opposizione e che abbiamo portato in maniera corale quindi credo che nasce tutto dal prendere atto finalmente che questo è un problema di vitale importanza che bisogna affrontare in una maniera decisa, forte e per un bene quotidiano di tutti i giorni perché la sicurezza come sentivamo prima è una tematica che a 360 gradi dalla istruzione, dalla sanità, dalla pubblica amministrazione, dalle aziende è facilmente attaccabile perché ormai possiamo dire che internet è il sistema nervoso dell'intero pianeta e dobbiamo cercare di salvaguardarci dei pericoli che esso comporta tale mondo Onorevole Pastorella Non è solo una questione di risorse ora il mio collega ha cominciato dicendo è arrivato poco in Parlamento di normativo io dico meno male perché l'Europa già negli ultimi anni ha preso veramente una velocità nel creare un quadro normativo talvolta anche non necessariamente chiaro, è sovrapposto si è già menzionata la seconda versione della NIS ma si può ricordare il Cyber Security Act che ha da una parte potenziato in ISA dall'altro ha cominciato a stabilire degli schemi di certificazione europei che ancora faticano quindi prima completiamo magari quel percorso prima di pensare ad altro potremmo citare il Cyber Resilience Act anche quello che cerca di innalzare i livelli minimi di sicurezza per tutti i prodotti e i servizi che o sono fatti, manufatti in Italia con componenti digitali ovviamente o importati c'è il Cyber Solidarity Act che parla invece di tutto quello che è il coordinamento per le risposte agli incidenti che molto spesso vanno oltre un paese quindi diciamo che a livello normativo bene che l'Italia stia un pochino ferma non è stata del tutto ferma perché il pacchetto a cui faceva riferimento il collega in realtà è un potpourri di tre elementi fondamentali inasprire le pene perché anche di questo stiamo parlando stiamo parlando di crimine quindi il governo come se posso permettermi in altri ambiti ha deciso di focalizzarsi su quella parte lì ma ci sta, sono pene che non sono state aggiornate da più di dieci anni, va bene dall'altra parte si occupa di codice degli appalti importantissimo abbiamo parlato di pubblica amministrazione di sfide della Cyber Security è bene che nelle gare di appalto si abbia un occhio di riguardo per gli aspetti legati alla Cyber che non sia solo il prezzo minimo ma che sia forse anche dei criteri di qualità degli standard e così via e il terzo punto è obblighiamo le nostre amministrazioni a fare più attenzione e a dire quando sono stati attaccati che è una parte della NIS 2 ma il tema vero non è solo diamo loro le risorse per trovare le persone che siano capaci di identificare un incidente informatico e di segnalare a ACN a chi di competenza che è successo ma ci sono queste competenze in Italia quindi il PNRR per esempio per il passaggio della pubblica amministrazione al cloud ha messo delle persone a disposizione non solo i fondi ma dei tecnici che vanno nei comuni e aiutano a fare questo passaggio abbiamo questi tecnici che possono andare ad aiutare le pubbliche amministrazioni nel momento in cui saranno nel perimetro della NIS 2 questa secondo me è una domanda altrettanto importante quella delle competenze che quella delle risorse quindi risorse sì importanti ma se poi non si sa chi sappia non c'è chi sa spenderle non è questione di capex non è questione di compro macchinario è questione di un'operazione che andrà protatta nel tempo perché la cybersicurezza è un costante aggiornamento non solo dei macchinari ma anche degli umani che lavorano quindi non bastano le risorse sicuramente no Onorevole Andrea Caso stiamo parlando del disegno di legge per la cybersicurezza che ha iniziato l'iter proprio alla Camera dei Deputati lei parlava dei comuni questo disegno ampia il perimetro cyber ai comuni sopra 100.000 abitanti alle ASRA alle NAUS ai capologhi di Regione però anche qui mancano dei fondi ad hoc cosa fare? prevedete degli emendamenti? Innanzitutto serve tradurre gli impegni in realtà c'è questo impegno l'abbiamo visto stiamo parlando dell'1,2% noi dobbiamo avere queste risorse io voglio però aggiungere agli interventi che mi hanno preceduto cercando di andare in quel solco che una politica industriale italiana europea di sostegno è indispensabile proprio per creare quella consapevolezza di sistema ma anche del nostro sistema paese quando noi abbiamo un PNRR che direttamente e indirettamente genera un volume di investimenti nella crescita digitale di decine e decine di miliardi arriviamo tra somme dirette e indirette a 90 miliardi e di questi destiniamo la minima parte la cenorentola 623 milioni o poco più alla cyber sicurezza stiamo facendo il contrario di quello che fanno le grandi economie e le grandi democrazie penso agli Stati Uniti negli Stati Uniti tu metti 65 miliardi 11 miliardi vanno sulla cyber sicurezza quando si parla di queste grandi leve il tema è proprio per costruire un ecosistema di formazione di imprese di professioni che poi sia in grado di garantire di occupare uno spazio e anche in termini occupazionali rappresenta il presente e il futuro del paese noi lavoriamo tanto ragioniamo su che cosa bisogna investire ma se io devo investire in qualcosa io devo investire laddove posso generare oggi evitare che la ricchezza che abbiamo venga rubata da altri perché è questo che avviene evitare che le competenze che crescono in Italia poi arricchiscano altri sistemi che è un altro problema che noi abbiamo e fare sì che Italia possa essere protagonista anche di quei settori che hanno un presente e un futuro per questo spostare la leva degli investimenti non basta ma è indispensabile perché se noi non spostiamo la leva degli investimenti non riusciamo a riequilibrare una situazione che è già un piano inclinato che ci sta portando sempre di più a scivolare al fianco dobbiamo fare un'operazione di consapevolezza di sistema generale quindi le due cose vanno insieme qual è il problema della regolamentazione che non tiene conto di questo aspetto che noi possiamo dire e fare tutto quello che vogliamo e cercare di farlo meglio ma dobbiamo far passare il concetto che non può esistere un'idea di sicurezza solo degli spazi fisici che così come noi pensiamo faccio un esempio una proposta legandomi così come noi pensiamo che sia fondamentale garantire una certificazione di sicurezza di questo stabile perché nessuno entrerebbe mai in un museo o in una sala con ghegni in cui non si è fatta una certificazione di sicurezza obbligatoria in cui non si ha la certezza che qui dentro non ci sia qualcuno che ci porta via la borsa appena siamo entrati o ci toglie via le cose questo stesso livello di impostazione di default deve essere garantita anche negli spazi digitali e anche in tutto quello che a livello pubblico a livello privato avviene in questi spazi è chiaro che è una rivoluzione perché noi passiamo da una possibilità a una necessità ma è una rivoluzione necessaria per questa ragione serve sia quello che dicevano i colleghi in termini di regolamentazione ma serve anche di spostare drasticamente la leva degli investimenti ultima domanda per tutti parliamo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e qui voi avete anche un ruolo chiave perché va recepito e come è successo per il GDPR può essere recepito anche non in toto allora Colucci qual è il suo giudizio su questo regolamento Benefei ha detto che a maggio sarà approvato definitivamente intanto bisogna evidenziare che l'intelligenza artificiale ha una funzione straordinaria rispetto ai tanti timori che spesso sentiamo raccontare e narrare e quindi c'è la grande occasione di creare un equilibrio tra l'utilizzo di sistemi informatici o mai così avanzati che si parla addirittura di machine learning le macchine che a furia di svolgere alcune attività poi piano piano accrescono addirittura le loro funzioni e le loro capacità e il ruolo dell'uomo noi dobbiamo da questo punto di vista investire moltissimo sulla forza che ci danno la tecnologia sia la cyber e la capacità di riuscire a limitarne l'attività secondo le esigenze dell'umanità da questo punto di vista il tema della formazione io credo che sia molto importante perché intanto avere consapevolezza di cosa sono i nuovi strumenti oramai la cyber security non è più qualcosa di così raro da individuare nella nostra società è il quotidiano ci confrontiamo quotidianamente quindi tutte le generazioni che vivono nel nostro paese devono sapere esattamente cosa hanno in mano e contestualmente dobbiamo avere quelle competenze che il legislatore deve garantire anche negli ambiti della formazione quante centinaia di migliaia di posti di lavoro sono sul mercato disponibili in questo settore in questo ambito la possibilità di avere alte specialità grandi professionisti che speriamo e dobbiamo evitare che vadano poi una volta formati all'estero ma poi abbiamo bisogno anche una parte operativa all'interno delle aziende che applichi le strategie che applicano i grandi progetti e allora all'interno dell'intelligenza artificiale che molti guardano con preoccupazione perderemo posti di lavoro chissà cosa succederà quello che faccio oggi lo farà la macchina domani parte di questo può essere anche vero ma bisogna comunque indirizzarlo verso qualcosa di utile produttivo riconvertire quei lavori che inevitabilmente perderemo non è limitando una grande occasione una grande opportunità che si fa del bene a quella forza lavoro ma bisogna capire bisogna riconvertire e oltre a pensare all'utilizzo dobbiamo esattamente intervenire su quel tema della formazione sulla consapevolezza della formazione sulle grandi specialità della formazione su chi all'interno delle grandi e delle piccole aziende possa essere in grado di mettere mano io vorrei chiedere ai presenti quanta necessità hanno di risorse umane e quanto è difficile trovare competenza in questo ambito vedo decenni di affermazione allora non si può ragionare sul tema dell'intelligenza artificiale e sul suo utilizzo se non si mette a fianco il tema della formazione Onorevole Pastorella qual è il suo giudizio sul regolamento europeo sull'intelligenza artificiale in attesa del testo finale ma qualcosa già si conosce ampiamente se ne conoscono tanti aspetti a me quello che fin dall'inizio mi ha lasciato perplessa è la scelta di fare una lista di casi d'uso perché una lista di casi d'uso è molto limitante e si limita a quello che oggi conosciamo di potenziali usi che viene fatto quindi io avrei preso più un approccio diciamo basato su dei principi o su dei casi d'uso più generici invece si è scelto questa sorta di lista per dividere sui vari ovviamente le varie scale di rischio che secondo me potrebbe essere limitante potrebbe voler dire che alla prossima revisione si dovrà cambiare atteggiamento ma non lo so d'altra parte quindi questa è la parte metodologica che mi ha lasciato perplessa nella battaglia tra consiglio e parlamento io devo dire che ero abbastanza più dalla parte del consiglio sul timore non solo per la restrizione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei governi e della polizia per carità tutti siamo d'accordo sui valori europei però anche la polizia e il governo hanno il loro mestiere da fare e anche sull'idea che ci fossero davvero ci sono davvero degli obblighi penso in particolare ovviamente ai casi rischio di certificazione di parte terza di trasparenza eccetera che rischia di avere un costo molto molto grande per le nostre imprese quindi benissimo che l'Europa sia stata la prima a livello mondiale a prendere questa iniziativa e che sia un'iniziativa però che guarda a un lato della medaglia che è il lato diciamo etico il lato di che cosa si può fare o non si può fare sotto quali condizioni il converso della medaglia però è il lato invece di sviluppo di industria di aziende ecco molto spesso viene citato a sproposito l'AI Act come se si occupasse di sviluppo di intelligenza avrà un impatto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale europeo ma non si occupa invece di quella parte importante che è come investire come permettere alle piccole e medie imprese di capire questa tecnologia e adottarla come accrescere le competenze che sono presenti sul territorio europeo in questo senso l'Unione Europea è molto limitata nella sua ricerca per la tecnologia e la sovranità digitale avete visto quanto timido è stato l'approccio a una materia così critica come i chips per cui il chips act europeo impallidisce rispetto a quello equivalente diciamo americano cinese idem sull'intelligenza artificiale se continuiamo a demandare 27 stati membri investimenti che invece andrebbero su cui andrebbe fatto un pool perché si parla di cifre anche di infrastrutture molto molto importanti secondo me questo sarebbe un atteggiamento più strategico se davvero vogliamo ambire alla sovranità digitale che citava anche il documento qua si pensava a livello nazionale io penso che ormai dovremmo davvero ragionare sempre solo a livello europeo in tutto quello che facciamo non solo di normativo ma anche a livello di investimenti di strategia industriale onorevole Colucci so che lei ha il question time la salutiamo grazie per essere stato qui al cybersec grazie ultima domanda all'onorevole Amic e poi vorrei chiedere a voi solo due domande per questo panel iniziate può concludere allora sul regolamento europeo inerente al regolamento europeo inerente sempre stiamo parlando dell'intelligenza artificiale e come abbiamo sentito è una grande possibilità e come tutte le grandi possibilità può diventare se non si va a legiferare nel modo giusto dando dei paletti delle regole diventare anche un pericolo l'intelligenza artificiale è un qualcosa che adesso stiamo affrontando forse come dicevamo un po' rilento perché abbiamo affrontato la questione etica dobbiamo mettere la terra con la questione tecnica e non è facile questo questo act va di pari passo con l'IS2 ci sono molte voci che sono state prese che vanno in maniera parallela quali ad esempio andare a mettere una classificazione su dove può essere affrontata e dove può essere e con che tipologia e di approccio ai vari livelli ad esempio quelli inammissibili quali ad esempio dove ci sono dei programmi a livello subliminali non può essere utilizzata mentre ci sono altri livelli quali ad esempio la pubblica amministrazione dove si toccano determinate tematiche inerenti di pubblico dominio con particolari diciamo limitazioni è un qualcosa che dobbiamo affrontare nel modo giusto come dicevamo prima un pochettino con la dinamica trasversale al di là dei colori a livello partitico come una grande possibilità che ci si presenta ma consapevole ripeto con una problematica che se questo non si comporta nel modo giusto può diventare un problema che costa di più di quegli investimenti che non si vanno a fare adesso grazie grazie mille e buon lavoro anche a lei allora una domanda per l'onorevole Casu e una domanda per l'onorevole Pastorella se ce ne sono dai non siate timidi prego prego presidente microfono considerando diciamo la scarsità delle risorse umane che riguardano sia la sicurezza che altro non pensate che sia il caso di immaginare e come governo e come paese un piano di riconversione delle lauree umanistiche riconversione forzata è qualcosa che io non proporrei non so se intendesse forzata o volontaria ok grazie io ho utilizzato due persone laureate in scienze orientali antiche in lingue orientali antiche e sono diventate due crittografi fantastici cioè secondo me se noi ragionassimo perché i giovani ce l'abbiamo ma ce ne abbiamo tanti disoccupati probabilmente con dei test capiremmo abbastanza velocemente quelli che hanno un'attitudine e su quelli potremmo lavorare però è un piano da governo non può essere un piano da azienda sì e no io sono laureata in filosofia e mi sono ritrovata a gestire la strategia globale di cyber security policy per un'azienda tech quindi sono l'esempio calzante ma perché perché l'azienda era grande e poteva permettersi di passare del tempo nel come dire spiegarmi nel formarmi e tutto fino a diventare e ad arrivare a quel luogo se sia lo Stato a doverlo fare sicuramente lo Stato già mette a disposizione attraverso le sue università questo genere di corsi quindi la domanda è come incentivare queste persone alla potenziale riconversione e non so se sia una questione davvero di risorse perché già questi profili sono altamente molto ben pagati certo non ben pagati rispetto all'estero ho scritto un libro sui cervelli in fuga sappiamo tutti il divario di salario tra gli ingegneri quindi la domanda è come incentivarle di più e come far capire che c'è bisogno di quelle figure io credo che la consapevolezza ci sia magari manca però la capacità di incanalare e quindi di far capire che questa domanda esiste per cui è una buona idea ma siccome noi abbiamo un tessuto di piccole anzi micro imprese che non possono farle da sole in effetti bisognerebbe che ci fossero altri canali quindi la mia risposta è potenzialmente sì ripeto per me ha funzionato benissimo però io ho avuto fortuna perché sono finita in una grande azienda e queste scarseggiano in Italia per cui come farlo bella domanda mi permetto di segnalare ma questo è un mio punto di vista poi su questo tema sono temi grandi ognuno ha la sua posizione secondo me più che il tema della riconversione il vero problema limite che dobbiamo affrontare è quello che noi abbiamo bisogno di un percorso di formazione che sia permanente accompagni tutta la vita delle persone cioè il vero tema è che questi cambiamenti stanno talmente cambiando la vita di tutti noi dove trovare le risorse se è vero che lavorando insieme all'intelligenza artificiale noi possiamo liberare a parità di ore lavorate 320 miliardi di euro in più di valore c'è un sacco di risorse che noi possiamo liberare queste risorse però devono consentire non solo al tecnico ma a tutti noi di essere in condizione di poter lavorare meglio insieme all'intelligenza artificiale il tema non è la sostituzione io mi permetto di dirlo perché ho saltato giustamente il giro sull'intelligenza artificiale però una cosa la voglio dire io non so quanti in questa sala sono cresciuto da ragazzo guardando Star Trek e chi ha qualcuno forse non so alziamo le mani chi ha visto Star Trek qualche puntata perché capirete posso muovermi allora a seconda della serie che abbiate visto però lo schema è sempre lo stesso che stiamo parlando del comandante Kirk di Spock o stiamo parlando di Picardo di Data tu hai due intelligenze diverse c'è l'intelligenza umana del capitano e c'è l'androide o il venusiano che non ha un'intelligenza emotiva ha un'intelligenza artificiale in un caso o nell'altro caso un'intelligenza aliena che interagiscono insieme e se andiamo a rivedere le puntate quante volte sarebbe morto l'Enterprise se non ci fosse stato la capacità di queste due intelligenze diverse di correggere reciprocamente i bias gli errori i problemi che ciascuna generava in un mondo in cui andiamo a mio avviso io spero in questa direzione in cui la nostra intelligenza umana sarà sempre fondamentale human in the loop ma dovrà interagire con sistemi informatici capaci di fare cose che erano imprevedibili quando abbiamo studiato all'università o quando abbiamo fatto il nostro percorso di studi è chiaro che noi permanentemente dobbiamo formarci e credo che il fatto che ci sia nella nostra formazione un bagaglio di saperi anche classici e fatto esempio dell'onorevole Pastorella ma anche io ho studiato il liceo classico e con ho convinto che anche in tutti gli studi poi tecnici scientifici che ho portato avanti nella mia vita quei saperi mi sono stati utili e mi hanno aiutato a orientarci il problema però qual è? non possiamo immaginare un sistema che è finito il percorso di studi tu smetti di studiare perché nel frattempo il mondo cambia e se non continui a studiare non lo capisci più non è un dibattito Presidente però prego è ancora una questione culturale quindi secondo me lì serve soltanto un pompiere digitale che se c'è un problema sa che cosa fare e chi chiamare cioè stabiliamo le regole media e grande azienda è un discorso piccole e medie imprese secondo me invece ha delle esigenze molto diverse non lo prenderà mai un cyber responsabile della sicurezza sarà uno che fa il personale la qualità la sicurezza eccetera eccetera perché sono 15 persone tutto lì bene ringraziamo i nostri onorevoli grazie all'onorevole Caso all'onorevole Pastorella buon lavoro è stato importante ascoltare anche la voce dei parlamentari e non solo di esperti cyber passiamo al prossimo a Schiamo a